Presentata questa mattina a Pescara presso la Sala Giunta di Palazzo di Città la Fiera Nazionale della Ristorazione e dell'Alimentazione, un appuntamento che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e che avrà oltre 150 espositori al Palafiere di Via Tirino. L'appuntamento si terrà dal 27 al 30 marzo prossimi. Ricominciamo con la 31esima edizione del Saral Food dopo questi due anni della pandemia che per noi del settore fieristico sono stati molto importanti perché non abbiamo lavorato per due anni. Quindi questa è la prima edizione che si fa dopo due anni in attività. Ci sono 150 espositori provenienti da tutta Italia, in più nell'ambito della manifestazione ci sono varie iniziative come il caratturo d'oro, la gara dei cuochi che si svolgerà a martedì, ci sono dei corsi per la birra, c'è il congresso dei balneatori che discuteranno delle nuove normative e tantissime altre attività. Il settore del turismo per noi è trainante, quindi fermandosi nel settore del turismo è difficile. Poi non dimentichiamo un aspetto importante che la pandemia ha fatto chiudere parecchi locali, parecchi barra e speriamo che finita la pandemia si possa riprendere tutto come prima. Quanto è importante riprendere e ricominciare dopo due anni? È stato difficile perché bisogna innanzitutto ricollocarsi, riprendere tutti i vecchi contatti, tutti i vecchi espositori e convincere a venire, perché sia per la pandemia, adesso con l'aumento dei prezzi dei carburanti, l'aumento dei prezzi del legno, del ferro, non è stato facile, però ci siamo riusciti.